Salve a tutti a questa ennesima ultima comunicazione per adesso sui prossimi gameplay che potrei fare sono l'ultimo dei romani o Killerator, dipende dai giochi, dipende da come preferite chiamarmi potete chiamarmi anche Cristian e questa comunicazione dovrebbe essere appunto l'ultima per un po' nella quale ho deciso, dato che molti hanno disapprovato la mia idea di fare tre video cioè tre video, insomma tre storielle delle campagne di Rome 1 su tutte e tre le fazioni giocabili romane, corte le campagne ovviamente non essendo stata approvata come idea ho pensato ma sì, facciamo ora una buona cosa non ci sono tantissimi gameplay su varie altre mod di Rome 1 ad esempio una mod basata sulla fine dell'impero romano dei vari imperi al massimo perché dipende dal periodo in cui nasce appunto quella mod e a che punto è basata sulla storia che sarebbero basate appunto sulla sopravvivenza degli imperi all'attacco dei vari nemici non so di quale mod voi pensate stia parlando ma ve lo dico subito è Invasio Barbarorum su cui ho già fatto un video che sarebbe una battaglia a caso la trovate nel mio canale che ho fatto un po' di tempo fa con dei fondi minimi e mettendo armate automatiche insomma grande stronzata ciò nonostante non era male bisogna dirlo cosa c'è di bella in quella mod? semplice è abbastanza storicamente corretta è buona e si trova nel periodo in cui appunto stavano cedendo i vari imperi e con ciò vi ho detto tutto spero che invece prendiate non prendiate a male questa mia ultima decisione come ho detto la campagna di Rome 2 la farò solamente quando ci saranno più iscritti al mio canale e quindi vi saluto e ci vediamo presto con un gameplay su Invasio Barbarorum Somnium Apostate Iulia